Speriamo che sia semaforo verde per tutti, nel senso che riusciamo a toglierci da questi 32 punti che obiettivamente incomincia ad essere un numero poco gradito. Poi semaforo verde inteso per chi gioca, sulla carta dovrebbe partire Almiron e Gazzi, partire per poi avere poi dovrebbe, e qui mi fermo perché poi sotto altri aspetti abbiamo qualche difficoltà e quindi dobbiamo valutare sia un discorso di condizione fisica e sia un discorso di ordine tattico, però non ha importanza chi gioca, l'importante è come si gioca, l'importante è mandare un segnale forte a tutta la città che il Bari pur nelle difficoltà vuole essere il Bari, cioè quella squadra che ha, non che ha stupito, ma quella squadra che ha dimostrato di avere a cuore i colori di questa società, quella squadra che ha dato tutto per 90 minuti in tutte le partite e direi che questo è il segnale più importante che noi dobbiamo dare. Abbiamo cercato in questi mesi di dare e il pubblico ha risposto alla grandissima, oggi non abbiamo bisogno nel senso nato la parola, ma sarebbe bello che il pubblico capisse che sono ragazzi questi che hanno voglia di dare ancora e quindi sarebbe bello che ci prendesse per mano.